Ben ritrovati. Allora, da qui al 4 di marzo, Orizzonte Fano. Che cos'è Orizzonte Fano? Lo chiediamo al sindaco di Fano, Massimo Seri, che ho qui il nostro ospite. Buonasera, sindaco. Allora, Orizzonte Fano, che cos'è? Beh, intanto è il nome che abbiamo dato al piano strategico. Il piano strategico per una città cos'è? Un documento programmatico che cerca di definire le strategie e le azioni per il futuro della città. È un po' come quando uno deve costruire un palazzo, prima fa un progetto e poi nel corso del tempo che occorrerà tenderà a costruirlo. Ecco, perché avete deciso come amministrazione, lei come sindaco, di promuovere questo piano strategico? Qual è l'esigenza? Beh, intanto, mi permetto di dire, è una scelta radicale. È la prima volta che la nostra città fa una scelta di questo tipo. È una scelta che ho voluto personalmente con molta determinazione, perché poche amministrazioni cercano di fare le proprie scelte organizzative, programmatiche, pensando ad una strategia complessiva del proprio territorio. Io sono convinto che se vogliamo utilizzare al meglio le risorse e non vogliamo sbagliare le scelte, dobbiamo cercare di guardare un orizzonte molto a breve, a medio e lungo periodo. Purtroppo la politica molto spesso cosa fa? Cerca il consenso immediato, fa delle scelte che guarda al domani e non si preoccupa magari che quelle scelte possono avere un effetto sbagliato a distanza di anni. Ecco, gli obiettivi invece di questo piano strategico, del quale avremo modo di parlare, perché avremo questi approfondimenti da qui al 4 di marzo per far capire bene a voi telespettatori, quale è il vostro contributo per far sì che questo piano strategico prenda forma e prenda vita? L'obiettivo è quello di avere una strategia per tutte le scelte che dobbiamo fare, a cominciare da quella della pianificazione del piano regolatore, a quelle azioni che possono farci vincere le sfide del futuro che riguardano il sociale, che riguardano il turismo, che riguardano le attività produttive, quindi a 360 gradi. Però la cosa importante è che lo vogliamo fare in modo partecipato, con il coinvolgimento delle intelligenze e competenze che ci sono nella nostra città. Ovviamente poi coadiuvati anche da strutture importanti, a cominciare dalle università che sono presenti nel nostro territorio. I tempi? I tempi. Ovviamente un piano strategico non si realizza in pochi giorni. Noi ci siamo dati delle tappe di coinvolgimento anche delle persone. La prima tappa importante dove invito i cittadini che vorranno partecipare, vorranno essere protagonisti, perché, ripeto, è un'occasione per pensare l'affano del 2030. Noi ci siamo dati questo obiettivo. Il primo appuntamento è il 4 marzo, dove faremo un host, che è un metodo di lavoro, chiamato Forum Urbano. Forum Urbano perché ci lega un po' a quelle che sono le nostre radici romane e un po' perché vuole essere un richiamo a quella che è la piazza, il mercato delle idee. Il 4 sarà un appuntamento importante dove tutti i cittadini che vorranno dare un contributo possono partecipare iscrivendosi al nostro sito. Lì ci sarà un momento plenario dove si deciderà insieme quelli che sono gli argomenti. Poi ci sarà un momento di lavoro per gruppi tematici, gruppi da cinque persone. Ovviamente il lavoro non sarà esclusivamente quello. Ci sono delle tappe, vorremmo arrivare con un primo documento propedeutico all'attività del piano regolatore e a fine anno arrivare con un documento programmatico che riguarda le strategie della città di Fano e poi dal 2018 un monitoraggio e un'applicazione, ovviamente tenendo conto che essendo un progetto a medio e lungo periodo guarda tappe non immediate. Ma ripeto, è un'occasione straordinaria per Fano e è anche un modo di porsi il nuovo. Ecco, quindi è importante, lo ribadiamo, per chi ha delle idee, per chi sente di poter dare un contributo per migliorare questa città, l'appuntamento del 4 di marzo, sabato, dalle 9 alle 13, nella ex chiesa di Sant'Arcangelo, ci sarà questo momento importante e poi anche alla Memo, questo momento importante, un'occasione, un'opportunità unica. Dicevamo prima, siamo tutti capaci a criticare, poi quando è ora di fare proposte magari ci tiriamo indietro perché non sappiamo mai cosa fare. In realtà questa è un'occasione davvero importante e unica. E proprio guarda, è quello che penso anch'io, noi siamo lamentosi molte volte, anche giustamente, per carità. Però ecco, questa è un'occasione per dire, diamo un nostro contributo costruttivo guardando anche dalle cose che non funzionano. E allora un po' parafrasando un Presidente degli Stati Uniti in un suo celebre discorso, quando chiedeva agli americani, non chiedetevi cosa l'America può fare per voi, ma cosa voi potete fare per l'America. Allora io sono molto più umile rispetto a Kennedy, però ecco mi viene da dire ai fanesi, vediamo, non poniamoci il problema di cosa Fano può fare con noi, ma in questa occasione cosa noi possiamo proporre per Fano. È una sfida avvincente dove il risultato non dipende dagli altri, ma dipende da noi, a cominciare dal Sindaco, dagli amministratori, ma anche dai cittadini che sono interessati alla propria città. Bene, grazie Sindaco. Vi ricordo che per poter partecipare a questo appuntamento è necessario iscriversi entro il 28 di febbraio all'indirizzo internet orizzontefano.it oppure all'ufficio relazioni con il pubblico che si trova in piazza 20 settembre a Fano. Materiali, documenti, slide con analisi dell'Università degli Studi di Urbino, invece sul sito di orizzontefano.it. c'è anche una pagina Facebook che si può cercare appunto sui social. Grazie a Sindaco di Fano, grazie a voi per averci seguito. Di questo parleremo ancora nelle prossime serate.